Domenica Live in pausa, quando torna in onda Barbara Durso Quando torna in onda Domenica Live? Barbara Durso si ferma per il Natale. Domenica Live va in ferie per le feste di Natale. Oggi Domenica 3 dicembre è andata in onda lultima puntata del fortunato programma di Canale 5. Ad annunciarlo la stessa conduttrice Barbara Durso, al settimo cielo per gli ascolti ottenuti fino ad ora. La Domenica di Mediaset è stata per mesi il programma più visto del fine settimana, battendo regolarmente la concorrenza rappresentata da Domenica in Surai 1 e quelli che il calcio surai 2. Quando tornerà in onda il talk show? Una data ufficiale non è ancora stata svelata ma è probabile che si riprenda il prossimo 14 gennaio. . Intanto la Durso continua ad andare in onda dal lunedì al venerdì con Pomeriggio 5, che dovrebbe fermarsi invece salvo cambiamenti dellultima ora venerdì 15 dicembre. . . Domenica Live in onda a dicembre con il meglio di . . Domenica Live tornerà in onda a gennaio ma Mediaset ha deciso di riproporre per tutto il mese di dicembre il meglio della trasmissione di Barbara Durso. . Dunque, le interviste più belle degli ultimi mesi ma anche alcuni filmati realizzati agli ospiti dietro le quinte. . Il format durerà in tutto un paio d'ore e verrà trasmesso già a partire dalla prossima domenica 10 dicembre. . Nel frattempo la dottoressa John un po' che gongolare, negli ultimi mesi ha avuto la riconferma del grande successo che ottiene la sua trasmissione domenicale. . Quasi 4 milioni di telespettatori con il 22 di share, insomma numeri da prima serata, che non sempre sono facili da raggiungere sul piccolo schermo. .